Possiamo usare il flash, il cellulare di spenti e magari controllate se qualcuno ha ancora il cellulare a metà. Allora, guardate quanto è importante questa benedizione del cavallo, non è una scaramazzina, ma significa che la gara e la carriera del bario è in onore della Madonna. Questo nel ceccio, nel trappellone, si offre l'idea fiura della Madonna perché si corre il suo onore. Ecco, il bario viene corso il giorno dopo le due feste, sia quella della visitazione, 2 luglio, che prima era il primo di luglio, che il 16 di agosto, la festa della Madonna e 15, i preti facevano la loro festa in chiesa, la festa in latino, con i vari canti, i vari salvi, e poi la gente proseguiva la festa in modo che era completa. La festa in chiesa e la festa in piazza del campo era un'unica festa in onore di Maria. Questi sono, diciamo, i nostri antichi che ci hanno lasciato questa tradizione. Per questo, per le dire, il cavallo in chiesa è proseguire la festa dell'assunza. Io sto parlando perché qualcuno stia zitto. Sto parlando perché qualcuno stia zitto. Cominciamo a far silenzio. D'altra parte, anche nella nostra religione, non è solo l'uomo che benedisce e loda a Dio, ma l'intero creato. Qui se leggiamo gli antichi salvi, le antiche preghiere, è l'uomo che prega e presta la voce alle piante, agli animali, alla luna e al sole, al gelo e al caldo. E quindi questa è la preghiera che c'è la chiesa che eleva a nome del creato. E quindi il cavallo è ovviamente il dono di Dio. Grazie. 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 Prego tutti, per colchesia, un minuto di attenzione. È indispensabile che assolutamente non si può fare foto con flash o far suonare cellulari, per cui attivatevi prima che entri il cavallo per evitare queste due cose. No flash, no mobile. Grazie a tutti.